Prosegue il percorso del primo Parco Mondiale dello Stile di Vita Mediterraneo che rientra nel progetto dell'Interreg Made in Et When Brand Meets People. In città infatti si svolgerà la prima tappa della manifestazione Aspettando Terra Madre in vista del Terra Madre Salone del Gusto di Torino a settembre in cui il parco verrà presentato come buona pratica. Il 31 marzo, l'1 e il 2 aprile, tra il Teatro Margherita e la Biblioteca Scarabelli e il Palazzo Moncada si susseguiranno incontri in presenza di esponenti della politica nazionale, regionale e locale ma anche rappresentanti del mondo associativo universitario, esperti del settore ed enti nonché momenti dedicati agli studenti e anche ai ristoratori. Noi già abbiamo localizzato due finanziamenti su Caltanissetta che danno già l'impronta dello stile di vita mediterraneo sulla città di Caltanissetta che è il capofila di questa azione e quindi la cucina prototipale mediterranea che sarà nel palazzo retrostante della cattedrale dell'ex carcere, quindi via Maro Tomminelli e la progettazione invece del polo di Sirpi che sarà importantissimo perché sarà un polo alimentare di altissimo livello per cui su questo aspetto noi già ci siamo e siamo già sul campo con i finanziamenti. È una grande manifestazione che nasce a Caltanissetta e che vede come prima tappa i giorni, i tre giorni che saranno a fine settimana e poi continuerà a giugno. Avremo al Teatro Margherita un grande parterre con soggetti di primo piano a livello nazionale e serve per agganciare il parco alle reti internazionali. Per la Scarabelli la cosa importante sarà quella di avere le scuole, avremo un momento di mattina dedicato alle scuole che proprio conosceranno la dieta mediterranea, faranno degustazioni, laboratori, attività formative. Abbiamo interessato tutte le scuole di primarie e secondarie di primo grado di Caltanissetta mentre quelle delle secondarie di secondo grado saranno al Margherita e poi nel pomeriggio si incontreranno i ristoratori proprio per diffondere la cultura della dieta mediterranea. Quindi diciamo una cosa molto vicina alla nostra comunità. Segnalo due momenti bellissimi, il primo che si terrà giovedì sera alle 21.30 al Teatro Margherita dove celebreremo i personaggi autorevoli del nostro territorio e stiamo partendo da Emanuele Macaluso che tutti voi conoscete. E poi il secondo momento, per questo invito e anche per l'altro invito tutta la comunità nissena a partecipare al teatro perché anche l'ingresso è gratuito, avremo la presentazione dell'opera dei pupi antimafia sotto la regia di Angelo Sicilia che parlerà proprio della storia di Falcone Borsellino. Per noi i ragazzi sono protagonisti e proprio come protagonisti avremo proprio qui e saranno accanto a noi in tutta la manifestazione un'esperienza molto creativa di Web TV, della Web TV Ruggero VII, dei ragazzi del liceo classico, che hanno sposato questa iniziativa e che ci diranno anche dal loro punto di vista come leggono il parco e quindi i suggerimenti perché ricordiamoci che il parco è per loro. La manifestazione vede il coinvolgimento e collaborazione anche di altre realtà locali e non solo come Slow Food, la condotta di Caltanissetta, Agal, Terre del Nisseno, il CEPAS, il Consorzio Universitario e i DIMED.